Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV. Cominciamo con la cronaca, questa edizione di pranzo del nostro OTG con un'operazione portata a termine dalla polizia che ha sgominato una banda di cossovari dedita alla commissione di furti nelle aree di servizio autostradali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Questa mattina in questura sono stati illustrati i particolari di questa operazione, operazione Predator in codice. Allora andiamo a sentire proprio le parole della comandante della polizia stradale di Udine che ci illustra i particolari di questa operazione. Sgominata una banda che colpiva in autostrada gli automobilisti distratti. Allora colpiva gli automobilisti che venivano ad arte distratti, cioè la distrazione era procurata perché magari chi di noi se uno straniero si sembra in difficoltà non è proiettato a dargli una mano e così facevano, fingevano di aver bisogno di aiuto, di un'informazione, di un'indicazione, distraevano, a volte facevano anche allontanare dal veicolo e poi perpetravano il furto. Erano molto organizzati? Organizzati, tant'è che abbiamo avuto il riconoscimento da parte del dottor, della procura di Pordenone di un'associazione che mira a individuare la banda come vera e propria banda criminale. Non colpivano solo in Italia peraltro? Allora sono stati arrestati, uno che era appunto ricercato in base appunto all'ordinanza di custodia cautelare è stato arrestato proprio in Germania in un'area di servizio di un'autostrada che puttacastro si chiama proprio A4 come la nostra. Avete ricostruito una quindicina di furti però avete detto che probabilmente ce ne sono stati molti di più. Diciamo che percorrevano nei periodi di osservazione tutte le notti un'ampia fetta delle autostrade italiane. Diciamo che quelli che siamo riusciti a ricostruire con la denuncia del derubato sono poco più di 15. Tra le difficoltà anche il fatto di capire le vittime visto che erano spesso straniere? Le vittime, sicuramente ci siamo avvalsi e ringrazio le traduttrici che ci hanno dato una mano spesso in orario notturno. Quindi noi ci siamo abituate, forse loro un po' meno ma sono state estremamente collaborative e le ringrazio. Il consiglio qual è quindi per evitare brutte sorprese nel caso di altri malintenzionati di questo tipo? Attenzione, semplicemente attenzione. Io come sono solita a dire arriviamo all'area di servizio, verifichiamo che l'auto sia effettivamente chiusa al di là del tastino del nostro telecomando della nostra chiave, prestare attenzione alla portiera e non sempre, come dicevo prima, chi ci chiede un'informazione è una persona che ne ha effettivamente bisogno. A volte vuole semplicemente distrarsi. Quindi attenzione, collaborateci. Una famiglia composta da padre, madre e un bambino di pochi anni è rimasta intossicata da monossido di carbonio che si è sprigionato nella loro abitazione. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale a Trieste per i trattamenti in camera iperbarica. L'episodio si è verificato intorno a mezzanotte nella zona sud della città. È stato il padre accortosi che la moglie accusava un malore a chiamare i soccorsi. Giunti sul posto i sanitari hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio nell'aria e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La famiglia è stata portata in ambulanza prima all'ospedale di Udine e da lì è stata trasferita a Cattinara. L'immobile è stato posto sotto sequestro. I vigili del fuoco del comando provinciale di Udine stanno vagliando le cause che hanno provocato la fuga di gas. L'attenzione è concentrata su una caldaia. Investimento mortale questa mattina verso le 7.40 a Gorizia all'incrocio tra le vie Paolo Diacono e Leoni. Una donna classe 1945 stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata urtata violentemente da un'auto in transito e sbalzata per diversi metri. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari con due ambulanze e un'automedica che hanno cercato di rianimare la donna in strada. Tutti i tentativi però sono risultati vari. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente. Ancora cronaca con due interventi dei carabinieri chiamati a far luce su un furto in un'abitazione di Treppo Grande avvenuto tra il 6 e l'8 dicembre. I gnoti sono entrati nell'abitazione di un uomo di 65 anni che ha trasporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri dopo aver rotto una finestra. Si sono introdotti in casa appunto e hanno rubato monili in oro e gioielli. Il danno è ingente ancora da quantificare. I carabinieri di Udine hanno rintracciato e arrestato un cittadino bosniaco di 45 anni che deve scontare una pena a due anni e sette mesi di carcere per una serie di reati in materia di stupefacenti e di evasione commessi nella provincia di Roma negli anni 2010 e 2012. Parliamo adesso del giallo del mostro di Udine, un'indagine che ha tenuto banco per decenni in città e che ha ripreso vigore negli ultimi mesi dopo nuove scoperte. Allora proprio di questo parleremo questa sera nel corso del nostro speciale del Tg dal titolo La Svolta sul mostro di Udine e in questo speciale curato da David Zanirato. Vediamo una breve anticipazione. Nome del sospettato di questo presunto serial killer di questo medico che è il protagonista del mio romanzo me l'hanno detto e raccontato in questi anni di lavoro tutta Udine. Fintanto che non avremo un quadro abbastanza chiaro che ci possa permettere di dire c'è un mostro di Udine ecco pensiamo che ci sono stati tanti mostri alcuni dei quali magari ancora in circolazione. E qui diventa difficile pensare che ci siano due mani diverse perché insomma io ho visto poi i corpi straffiati osserve grande scienza per arrivare a una deduzione che è logica. Abbiamo rinvenuto, io non avevo aperto le buste quindi al tatto però comunque ormai è scontato quello che ci fosse stato dentro. Comunque è stato ritrovato un preservativo usato, scappucciato e usato e dei capelli. E dall'altra parte invece per l'omicidio Bellone abbiamo trovato uno spinello che sembra una sigaretta e anche questo è repertato come trazza acquisita sulla scena del crimine. Potrebbe fornire un profilo anche di una persona che era sul luogo quindi non necessariamente l'autore del delitto ma darci la possibilità di comprendere chi è stato in quel luogo. La comunità è colpevole tanto quanto è investigatrice quindi bisogna ascoltare le voci delle persone. I carabinieri lo sanno, i miei libri si basano su questo, sul pettegolezzo per quanto riguarda me è narratrice che salva la vita perché le persone hanno ascoltato e possono raccontare. Appuntamento dunque questa sera alle 21 su Udinese TV e oggi 10 dicembre si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei diritti umani e proprio a questo argomento è dedicato un convegno che è in corso di svolgimento al centro Balducci di Zuliano e lì che si trova la nostra Francesca Santoro alla quale ci diamo subito la linea. Buongiorno Francesca, a voi. Sì, buongiorno Angela, con me Francesco Buonopane che è segretario regionale della Filcams CGL. Un convegno per parlare di formazione e di inclusione sociale. In che modo la formazione è uno strumento di inclusione? Attraverso il sapere, attraverso la conoscenza l'uomo si rende libero e riesce ad emanciparsi, riesce a progredire, a ragionare con la propria testa e riesce a lottare consapevolmente. Oggi abbiamo pensato, essendo la giornata internazionale dei diritti umani, di partire proprio dalla formazione delle nostre delegate e dei delegati per far passare dei messaggi di inclusione sociale e quindi poi uno sguardo particolare ai migranti e alla condizione di chi deve lasciare la propria terra per scappare da miseria, guerra o condizioni comunque economiche disagiate e arrivare nel nostro paese. Qual è la situazione nel nostro territorio? Ci sono degli esempi positivi da citare? Come sempre ci sono esempi positivi e negativi. Oggi parleranno proprio delle nostre delegate che in quanto tale hanno poi attraverso il dramma comunque di lasciare la propria casa e i propri affetti, hanno però ritrovato nel nostro paese attraverso il lavoro e anche col supporto delle organizzazioni sindacali e della CGL hanno trovato una loro nuova casa. I nostri tra l'altro sono dei settori, quelli del terziario, del turismo piuttosto che del pulimento dove c'è una massiccia presenza di personale, diciamo migrante, di donne, di uomini non nati da noi. Spesso per chi arriva al nostro paese il primo lavoro che trova è il lavapiatti ad esempio e quindi pubblici esercizi, magari senza neanche conoscere la lingua. Ecco che il lavoro ha anche una funzione, anzi deve avere una funzione come previsto dalla nostra Costituzione sociale. Cosa bisognerebbe fare secondo voi in base alla vostra esperienza? Bisognerebbe aiutarsi tutti un po' di più, essere tutti un po' più umani, rimettere semplicemente al centro l'essere umano e l'individuo con le proprie differenze che però sono differenze che arricchiscono, sono dei valori aggiunti. Basterebbe guardarsi un po' di più e parlarsi un po' di più. Grazie allora Francesco Bonopane, a te Angela. Grazie, grazie Francesca. Noi continuiamo a parlare di lavoro perché ci sono gli ultimi dati sul mondo del lavoro presentati e commentati oggi da Confindustria Udine. L'occupazione in provincia di Udine vede un saldo tra assunti e cessati ancora positivo ma la dinamica è in rallentamento. La presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, dice siamo preoccupati e arrabbiati, l'Italia è bloccata e al Paese manca una visione. Secondo le elaborazioni dell'ufficio studi di Confindustria, su dati dell'osservatorio del lavoro della Regione, nel periodo gennaio-settembre di quest'anno le assunzioni hanno riguardato 74.890 rapporti di lavoro meno 3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le cessazioni sono state pari a 69.414 unità con un saldo positivo di 5.476, inferiore però rispetto a quello registrato l'anno precedente che aveva visto appunto 6.429 unità come saldo positivo, numeri ancora più elevati nel 2017, quindi una dinamica in netto rallentamento. Andiamo in autostrada adesso per un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità, perché ci sono delle code in essere, eccole, vediamo proprio in queste immagini, vediamo la linea rossa che va da San Giorgio di Nogaro a Cessalto più o meno, c'è stato anche un incidente tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Torino, ci sono molte code in direzione Torino a causa di traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto. Tra l'altro questa notte, anzi all'alba di oggi in autostrada, c'è stato un altro brutto incidente che ha visto per protagonista un mezzo pesante, dovremo avere anche alcune immagini di questo incidente, un mezzo pesante che poi un'autocisterna per la precisione che ha preso fuoco dopo uno scontro con un camion, è morto carbonizzato il guidatore dell'autocisterna, l'autostrada è rimasta chiusa per ore e tra l'altro uno dei mezzi ha investito anche un altro mezzo di persone che erano al lavoro sull'autostrada, fortunatamente non ci sono stati feriti fra le persone al lavoro, i sette operai autostradali sono usciti illesi da questo incidente, però appunto c'è comunque una vittima. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione della terza corsia, sempre sulla A4, oggi verrà aperto al traffico un ulteriore tratto da Alvisopoli, a poco prima del ponte sul fiume Stella in direzione Trieste. L'obiettivo è quello di aprire tutto il tratto compreso tra il ponte sul fiume Stella e Alvisopoli anche in direzione Venezia entro Natale. Per questo ci saranno due chiusure, la prima dalle 20 di questa sera alle 5 di domani mattina riguarderà lo svincolo di San Giorgio di Nogaro, sarà chiuso per chi proviene da Venezia, quindi chi è diretto a San Giorgio dovrà uscire al casello di La Tisana, e poi domani, dalle 21 di domani sera alle 4 di giovedì mattina, chiuso in entrambe le direzioni il tratto autostradale tra La Tisana e Portogruaro. E adesso lo sport, siamo pronti per ritornare alla Dacia Arena dal nostro Lorenzo Pausa per tutte le ultime sull'Udinese che oggi riprenderà gli allenamenti in vista della gara di Domerica contro la Juventus. Lorenzo, buongiorno a te. Buongiorno Angela, qui dalla sala stampa della Dacia Arena, in attesa che oggi pomeriggio l'Udinese torni ad allenarsi sui campi del Bruseschi per preparare per l'appunto la sfida contro la Juventus. Una squadra veramente attrezzata, una delle bestie nere di questo campionato, quella allenata da Maurizio Sarri, che comunque nelle ultime due partite ha raccolto solo un punto pareggiando contro il Sassuolo e venendo sconfitta per 3-1 contro la Lazio, altra squadra veramente in salute che nella settimana precedente aveva superato anche i bianconeri. Una Juventus che sarà impegnata tra l'altro in Champions League questa sera affrontando il Bayern Leverkusen. Tra l'altro questi sono giorni di dolci memorie per quanto riguarda l'Udinese che proprio a Leverkusen vent'anni fa scrisse una pagina, una forse delle più belle pagine della storia dell'Udinese con quel miracolo in Coppa UEFA che ce lo ricordiamo tutti quanti. Una Juventus che l'Udinese affronterà con una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi dopo quella che è stata una settimana particolarmente positiva tra il passaggio del turno in Coppa Italia e il pareggio conquistato con il Napoli. Due partite che hanno dato indicazioni importanti a Mister Gotti che potrà contare in particolare su un ritrovato feeling con il gol da parte di Kevin Lasagna ma anche su uno stato di forma in crescita da parte di Secco Fofanà chiamato in causa in entrambe le competizioni dopo essere stato tenuto in panchina per diverse settimane è risposto subito presente così come tutti gli altri elementi che sotto l'era Gotti sono stati rispolverati e stanno dando buone risposte come per esempio Bram Noiting. I giocatori che invece sono sotto osservazione perché in fase di recupero dai rispettivi infortuni sono Ken Sema, Samir, Mato Iaialo e saranno da verificare anche le condizioni di Rodrigo De Pollo che lo ricorderete contro il Napoli è uscito dal campo negli ultimi minuti accusando anche lui un piccolo risentimento tutte le news che saremo in grado di darvi in maniera più dettagliata a partire dall'allenamento di oggi pomeriggio ma anche poi nei prossimi giorni dove potremo quindi riscontrare meglio l'evoluzione dello stato di forma anche di questi giocatori squadra quindi in campo alle 14.30 oggi pomeriggio al Bruseschi prima di recarsi come da tradizione al Santuario di Castelmonte per la Santa Messa Natalizia qui dalla sala stampa della Dacia Arena per il momento è tutto e Linea Angela che può tornare a te Grazie, grazie allora a Lorenzo Pausa per questi aggiornamenti dalla Dacia Arena noi riavvolgiamo un attimino il nastro adesso ritorniamo alla serata di ieri al nostro Udinese Tonight che ha visto ospite Capitan Kevin Lasagna allora andiamo a sentire anche in questo caso un breve estratto della trasmissione con le parole del Capitano Volevo fare due domande da Sport Italia e non da Udinese TV quindi cambio la giacca perché la prima domanda è vi aspettavate e soprattutto siete contenti di una conferma di Gotti e non di un sostituto di Tudor perché si era parlato molto Tudor, Gotti, traghettatore poi arriva un altro ah ve lo aspettavate di andare avanti con Gotti siete contenti che è rimasto Gotti e non è arrivato un nuovo allenatore e la seconda è quella che stava facendo un po' prima Giorgia ovvero la seconda domanda è quando il tuo procuratore parla di Inter Napoli si dimentica che sei un tesserato dell'Udinese non ti è mai venuto di prendere le distanze dal tuo procuratore o almeno chiamarlo e alzare il telefono e dirgli aspetta che così mi metti in difficoltà con il club che puntualmente non mi fa mancare nulla? da dove vuoi partire? dall'ultima ma andiamo dall'ultima sì perché alla fine ho un rapporto con il mio procuratore molto amichevole quindi penso che non abbia mai rilasciato interviste così clamorose da poter fare confusione con il club penso che si ha rilasciato qualche intervista su qualche squadra altra squadra comunque lui sottolinea sempre che adesso devo continuare a fare bene con l'Udinese l'altra era Gotti su Gotti noi avevamo dato la scelta ovviamente la scelta era della società però siamo stati molto contenti della conferma perché già con Tudor vediamo che era un allenatore molto preparato e quindi pensavamo che fosse la persona giusta per noi perché già ci conosceva da inizio anno e aveva visto il nostro percorso anche sul livello fisico e atletico che avevamo fatto ci conosceva bene e tatticamente era molto preparato come hai vissuto la panchina? cioè come hai vissuto al fatto a un certo punto di non essere più titolare fisso? no fa rabbia però ti fa venire ancora più voglia anche quando entri di fare meglio di cercare di spaccare la partita se è una partita una partita un po' chiusa come dicevo prima devo tornare a fare quello che ho fatto in queste partite come intensità più che altro non importa il gol perché i gol sono una conseguenza secondo me certo giovedì giovedì 12 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni d'Audine l'atteso concerto dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia che non sarà però diretta dal maestro Gustavo Dudamel che per motivi di salute non potrà dirigere i concerti della tournée italiana dell'orchestra che oltre a Udine toccherà anche Torino, Brescia e Rimini sul podio ci sarà il maestro Estone Michael Gerz appuntamento dunque giovedì alle 20.45 al Teatro Nuovo il programma del concerto rimarrà invariato e in chiusura come sempre andiamo a dare un'occhiata anche a quello che accade attorno a noi a quello che accade nel mondo con il consueto servizio curato dall'ANSA poi le previsioni del tempo dell'Osmer Arpa la prossima finestra dedicata all'informazione live su Udinese TV come ogni giorno alle 16 grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio Una legge per il clima per rendere irreversibile il percorso verso in Europa emissioni zero nel 2050 e un piano per aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione Europea dal 40% al 50-55% al 2030 questi i due pilastri su cui poggia la comunicazione sul Green Deal che la Commissione Europea continua a limare in vista della sua presentazione mercoledì prossimo cambiano i dettagli ma non la centralità assoluta data all'ambizione climatica giovedì la presidente dell'esecutivo dell'Unione Europea Ursula von der Leyen presenterà la comunicazione ai capi di Stato europei riuniti in un vertice da cui dovrebbero arrivare impegni concreti almeno sull'obiettivo a lungo termine le emergenze climatiche non sono qualcosa che avranno un impatto sul futuro che avranno effetto sui bambini nati oggi una volta diventati adulti hanno già effetto sulle persone che vivono oggi non si stanca di ripeterlo Greta Thunberg e lo ha fatto ancora alla COP25 a Madrid ormai seguita come una vera star assediata dal circo mediatico la sedicenne attivista svedese diventata icona mondiale della lotta al global warming ha lanciato il primo messaggio in avvio della seconda settimana di negoziati alla conferenza sul clima dell'ONU la sua pressione e quella di tanti giovani anche dopo la marcia di 500.000 persone venerdì scorso a Madrid è alta e si fa sentire ha appena 34 anni Sanna Marin, astro nascente del partito socialdemocratico finlandese e ministro dei trasporti uscente sarà la premier più giovane del mondo strappando così il primato al 35enne capo di governo ucraino Olexi Oncharuk ma anche distanziando la neozelandese Jacinta Ardern ormai sulla soglia dei fattivi C40 ottenuta la fiducia per un pugno di voti Marin, nata e cresciuta ad Helsinki da due mamme classe 1985 con una carriera politica che ha preso forma a Tampere inserita tra le prime 30 città hipster al mondo è stata comprensibilmente messa sotto torchio dei giornalisti finlandesi che le chiedevano un commento sulla sua giovane età con destrezza Marin ha schivato la domanda insidiosa dichiarando abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia non ho mai pensato alla mia età o al mio sesso penso alle ragioni per cui sono entrate in politica e alle cose per le quali abbiamo conquistato la fiducia dell'elettorato un netto miglioramento stamattina con c'è di prevalenza sereno grazie a correnti secche da nord ovest in quota da nord ovest in quota e da nord est nei bassi strati permane solo un po' di nuvorosità bassa qualche banco di nebbia sul tarvisiano ma anche questi dovrebbero risolversi in giornata quando appunto dovrebbe prevalere il sereno su tutta la regione ci sarà un po' di vento nel nord est un po' di bora sulla costa e le temperature che sono già un po' più basse oggi rispetto ai giorni scorsi abbiamo avuto valori poco sopra lo zero in pianura oscillanti tra 1 e 5 gradi e più umidi sulla costa naturalmente e piuttosto fresco anche in montagna dove lo zero termico è intorno ai 1000-1200 metri circa la giornata di domani inizierà ancora con cielo sereno poi aumenta la velatura per l'avvicinamento di un fronte che però si prefigura abbastanza modesto e ci interesserà nella giornata di giovedì e potrà determinare qualche precipitazione sulla regione e diciamo in genere debole vi sarà poi un aumento probabilmente dello zero termico per l'avvicinamento di un altro fronte nella giornata di venerdì che potrà portare ancora alcune precipitazioni della neve a quote però tutto sommato medio basse per quanto riguarda la montagna temperature da segnalare per domani mattina piuttosto freddo in montagna naturalmente anche a fondo vale e anche in pianura con valori minimi che potranno scendere intorno anche a meno 3 meno 4 gradi su diverse zone della pianura quindi con girate diffuse più miti ovviamente sulla costa e direi che per ora è tutto grazie a tutti